Se siete ancora qui c'è un motivo. Molti vostri colleghi sono stati mandati via. Per sempre. Erano dipendenti in gamba, efficienti, ma voi lo siete di più. Lavoravo su una cosa ma non sono riuscito a finirla. Dagli un'occhiata. E sta attento. Dovete tornare qui subito. Che succede? Guarda qua. Quando tutto questo verrà fuori farò un botto. È grosso. Quanto grosso? Ci sono otto trilioni di dollari di cartaggia in giro per il mondo che si basano su quell'equazione. La formula non serve a niente. Quanto ci vorrebbe a ripulire i nostri libri contabili? Che cosa? Ci sono tre modi per andare avanti in questo campo. Essere i primi, essere i più furbi o truffare. Non vorrai fare quello che stai pensando. Sam, sei con me o no? Stai vendendo qualcosa che sai che non vale niente. Ho deciso, Sam. Se lo fai, ucciderai il mercato. Vendiamo ad acquirenti consenzienti. Semplicemente per riuscire a sopravvivere. Ricordatevi questo giorno. Ricordatevelo bene. Se oggi vinciamo, ci saremo giocati per sempre il nostro lavoro. Non ci sto. Ho chiuso. Sono fuori. Mi serve una testa da dare in pasto agli azionisti. Se andremo a fondo, ci andremo insieme. Lavoro in questa compagnia da anni. Ho visto cose che non immagini neanche. Sei sicuro che sia la cosa giusta da fare? Sono solamente soldi.